Ciao cari amici e benvenuti in un altro video della serie generale delle mie opinioni che condivido con voi oggi è sempre sì un'opinione però è basata su dei fatti oggettivi da come avete visto dal titolo oggi vi parlo dei flagship store ho chiaramente utilizzato il flagship store più importante e famoso che c'è cioè gli Apple Store perché sono certo, sicuro, anzi tanta gente è venuta e anche di me non mi ha detto ma gli Apple Store sono una cavolata pazzesca questi spendono milioni di euro per fare questi negozi chiaramente fatti tutti bellissimi per poi comunque vendere i prodotti Apple ovviamente ma non è che danno qualcosa di più cioè non è che sono dei negozi di fatto sono dei negozi e quindi per molti dicono sono una cavolata già lo vendono online, la gente compra online per quale motivo devo andare a costruire un negozio? perché devo andare a costruire un Apple Store all'interno di una piazza? ovviamente sto facendo questo video perché è stato inaugurato anche a Milano in piazza Liberty se non sbaglio un nuovo Apple Store sotterraneo con una vetrata, con la cascata quella vetrata che dovrà essere pulita ogni sacrosanta notte immaginate quanto costa quello e altri perché sono sparsi in tutto il mondo nei posti più belli del mondo pensate quanto costa mantenere quegli store e quindi uno si chiede l'azienda del genere fa degli investimenti e della miseria che chiaramente non avrà alcun tipo di ritorno perché ovvio che poi gli iPhone, gli MacBook, gli iMac li va a vendere online ovviamente mica li vende sullo store ebbene, penso che chi la pensa così si sbagli già semplicemente perché c'è un grande ragionamento dietro i flagship store fatti in una certa maniera quindi come questi di Apple sono delle mosse commerciali e marketing micidiali e ora voglio spiegarvi perché per cercare di aprire un pochettino gli occhi anche su questa cosa partiamo però da un presupposto chiaramente ho utilizzato i flagship store, gli Apple Store ma vale anche per tutti gli altri o quasi tutti gli altri in Italia non ce ne sono moltissimi ma soprattutto anche all'estero ci sono i flagship store per differenti marche chiaramente di moda ma anche di alcolici, Coca-Cola, M&Hands varie marche dell'elettronica, Bose insomma ce ne sono diversi e tutti se fatti come detto in una certa maniera portano dei grandissimi vantaggi che a colpo d'occhio effettivamente non ci si pensa io non sono amante degli store di Apple forse perché sono un utente voluto ovviamente però mi rendo conto che come me magari come diversi voi utenti evoluti siamo una piccola parte, una piccola nicchia mentre ci sono una quantità enorme di altri utenti che cosa si fanno? si fanno influenzare da questi flagship store qual è lo scopo? pensate come sono fatti? sono bellissimi, materiali pregiati posizionati in diverse zone delle piazze famose quindi zone di un certo tipo che cosa fanno quindi questi flagship store? creano quello che è l'identità del brand lo scopo di questi store, lo scopo dell'Apple Store non è vendere prodotti non lo è vendono una minima parte di prodotti non è dare assistenza con i Genius Bar anche, ma è una minima parte tutto il resto lo si fa online è creare l'identità del marchio comunicare al mondo intero che cos'è quel marchio in altre parole come quel brand va a posizionarsi nella mente delle persone ok io so già che voi molti di voi saranno dicendo non sono mica scemo non mi faccio mica influenzare da queste cose sbagliato due studi di neuroscienze i comportamenti economici all'acquisto hanno definito chiaramente che il 50% della vostra decisione di acquisto non è fatta in maniera razionale in altre parole almeno la metà perché ora vi dirò qualcosa di più in alcuni settori arriva quasi al 90% almeno la metà della vostra decisione di acquisto è semplicemente emotiva voi state pensando di fare l'acquisto migliore della vostra vita perché avete fatto le ricerche sul web avete guardato quale è il meglio avete guardato quale è il peggio avete fatto i vostri rapporti con le prestazioni la qualità e il prezzo e quindi state dicendo ok ho fatto tutti i miei studi e ho fatto quella che è la mia scelta ma c'è quella parte che incide comunque notevolmente sulla vostra decisione dell'acquisto che è appunto come detto irrazionale voi non ve ne state rendendo conto ma siete mossi mossi verso quel determinato prodotto per appunto una questione emotiva e irrazionale perché alla fine c'è quella parte di bestia che è in voi che comunque incide sui vostri comportamenti torniamo quindi ancora una volta alla forza del marketing come detto le campagne marketing quelle con maggior successo sono quelle che si basano sulle emozioni pensate ad esempio al brand della Coca-Cola pensate alle pubblicità qual è l'emozione che Coca-Cola da anni continua a spingere in tutte le sue pubblicità online, offline, in televisione qual è? è la felicità famiglie felici bambini felici arriva Natale siamo tutti felici la famiglia felice l'ho già detto? sì insomma la felicità in qualsiasi cosa quando c'è Coca-Cola la gente le persone sono felici se sono tristi arriva Coca-Cola e la gente diventa felice perché? perché beve la Coca-Cola quando sono stati fatti degli studi sul gusto della Coca-Cola confrontato a quello di altre bevande e confrontati ovviamente questi sono studi scientifici con parametri statistici è venuto fuori che la Coca-Cola non è la bibita quella che ha raggiunto il punteggio più alto nella semplifico ragazzi nella scala del gusto no non lo è e qual è però la bibita gasata zuccherata chiamatela come volete che vende di più la Coca-Cola nonostante comunque esistono bevande dal gusto definito statisticamente migliore perché? per quello che vi ho appena detto perché siete besti irrazionali e quando voi vedete altre bibite vedete Coca-Cola c'è qualcosa che si accende di irrazionale quindi non potete dire io lo controllo perché è irrazionale non potete farlo che vi spinge a fare determinate scelte uno studio nel campo della vodka adesso non mi ricordo le due marche comunque potete cercarlo semplicemente si trova ha dimostrato che addirittura in quel campo si è arrivata a una scelta emotiva del 90% quando quella determinata marca di Coca-Cola che scusate di vodka la cui campagna è basata sul comunicare un senso di ricchezza unicità se bevete quella vodka siete più fighi degli altri in maniera proprio basilare ha definito che quella determinata marca è stata venduta molto di più anche dopo che per esempio è stata tolta dalla sua bottiglia fighissima altre cose quindi la campagna marketing aveva già fatto così tanto il suo dovere che poi potevano anche buttartela lì in qualche maniera una bottiglia di plastica e probabilmente le persone avrebbero acquistato ancora quella marca perché oramai la loro mente era stata controllata completamente dall'emotività che la pubblicità il marketing gli ha fatto negli anni e gli ha come dire in qualche maniera plagiati e quindi torniamo ad Apple le emozioni che Apple comunica continuamente nelle sue campagne marketing nella pubblicità in tutto cos'è cosa sono sono l'amore di possedere quel prodotto l'unicità di possedere quel prodotto la felicità di possedere quel prodotto che rende chi ha un prodotto Apple differente dagli altri gli shop permettono al brand di comunicare tutte queste emozioni queste sensazioni questa posizione del brand alla massima potenza quindi quando voi andate a comprare un prodotto vi sentite parte un prodotto Apple in questo caso l'idea è quella che voi vi sentite parte di una community dell'it un qualcosa migliore degli altri un qualcosa di unico se prendete un altro prodotto invece si cerca di comunicare anche il contrario cioè non siete parte di quella community siete degli sfigati ovviamente tutto ciò non è vero perché chi ha uno smartphone Android non è inferiore non è più stupido non è meno bello non è meno intelligente non è meno unico di prendere un computer Windows o un qualsiasi altra cosa non lo è lo sappiamo razionalmente lo sappiamo ma c'è quella parte del vostro cervello che però irrazionalmente vuole fare parte dell'elite vuole essere figo quanto gli altri vuole non quanto gli altri vuole essere figo quanto il brand dice che chi lo acquista chi lo usa è figo non potete dire no non è così perché è razionale non ve ne state rendendo conto quindi io so che voi tanti di voi diranno non sono d'accordo perché io controllo tutto il mio smartphone il mio computer è meglio di quelle schifezze di Apple va bene si sta razionalmente è giusto ma non stiamo confrontando numeri stiamo confrontando quello che il vostro corpo il vostro cervello vi porta a desiderare che è per buona parte irrazionale preferite la Coca Cola rispetto alla Pepsi vero? certo che lo preferite preferite desiderate un prodotto l'ultimo iPhone l'ultimo Macbook l'ultimo iMac rispetto al computer Windows cassone non dite di no una parte di voi lo desidera lo so poi vabbè si fanno le analisi perché in tante parti poi c'è la parte razionale che dice costa troppo non mi da cose in più non voglio Windows non mi interessa ci sono quella parte di dati irrazionali che poi fanno fare la scelta però c'è anche una parte che quantomeno a pensarci a desiderarlo un pochettino esiste la provate se no non state neanche a pensarci se no non sarebbe proprio nella vostra mente invece c'è quella parte razionale c'è sempre quindi ecco perché gli Apple Store nonostante anche a me non piacciono particolarmente non sono una cagata pazzesca fatemela dire così ho fatto la battuta non lo sono perché riescono a comunicare alla massima potenza tutte queste cose nella strategia di un brand come Apple come gli store di Gucci come gli store di tutti i brand di moda non sono esperto di moda qualcuno di voi probabilmente lo saprà di più perché esistono quelli store perché quei brand fanno degli store soprattutto questi qua di moda ad esempio forse l'esempio migliore che in cui non vendono nulla ma sono perché loro comunicano loro comunicano i loro brand loro elevano i loro brand e tramite questa strategia colpiscono la parte irrazionale che voi non controllate del vostro cervello quindi sono una parte integrante delle strategie di marketing questo è il motivo per cui esistono i flagship store e perché per alcuni brand se fatti in una certa maniera sono molto importanti grazie amici per avermi seguito in questo video spero di avervi dato dati per farvi un po' così come dire ragionare vedere questa cosa sotto un lato un po' differente abbiamo aggiunto un altro tassello rimane una mia opinione ma rimane un'opinione fino a un certo punto perché molte delle cose che vi ho detto sono oggettive e fanno parte di strategie marketing che su cui aziende investono milioni e milioni e quindi sicuramente non sbagliano grazie ancora per avermi seguito lasciate un mi piace condividete il video iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un altro video ciao ciao ciao